Una notizia bomba ha colpito Milano questa sera. E noi torniamo con un aggiornamento che potrebbe cambiare il futuro di Raffaele Aue e dei tifosi del Milan. Prima di addentrarci in questo elettrizzante argomento, lo sapete già, vero? Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Quello che abbiamo oggi susciterà le emozioni di tutti i tifosi del Milan. Qualcosa di grosso sta accadendo dietro le quinte e ciò che accadrà potrebbe cambiare drasticamente il futuro del... Nostro attacco Raffaele Aue, che era intoccabile sotto Stefano Pioli, ha visto la sua situazione cambiare radicalmente sotto Paolo Fonseca. Secondo quanto riportato da Asterisco Anto Vitiello Asterisco dell'Asterisco Corriere dello Sport Asterisco, l'attaccante portoghese è deluso per il trattamento riservatogli di recente e ha chiesto ai suoi agenti di esplorare le possibilità di trasferimento. Le Aue dovrebbe essere in panchina anche oggi contro il Monza. Segno che le cose potrebbero andare verso un esito inaspettato. Con una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, Leao è ancora un giocatore molto apprezzato. Ma l'incertezza sulla sua situazione ha fatto crollare il suo valore di mercato. Il Barcellona è interessato, ma l'operazione sarebbe complicata per il club catalano. Soprattutto considerando la sua situazione finanziaria. Di conseguenza, la Premier League è una possibilità, anche se non ci sono ancora opzioni concrete. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Il Milan dovrebbe agire rapidamente per risolvere la situazione di Leao e assicurarsi la sua permanenza. O forse è il momento di considerare nuove opzioni. Lasciate un commento qui sotto. Condividete il video con altri tifosi del Milan e restate sintonizzati sul canale per ulteriori aggiornamenti. Sul futuro di Raffaele Aue e sui movimenti del mercato dei trasferimenti.